Già ratificata da Pescara, posticipata al 10 novembre da Spoltore, votata oggi all'unanimità dal Consiglio Comunale di Montesilvano. È la delibera che prevede lo slittamento della nascita della nuova Pescara di un anno, dal 1 gennaio 2023 al 2024, processo importante e complesso che coinvolge appunto i tre comuni citati. L'Assemblea è stata compatta, anche se lo stesso sindaco De Martinis ha ricordato in aula come la delibera sia quella che più di tutte mi mette in difficoltà per usare le sue parole perché implica non solo aspetti amministrativi ma intreccia in maniera profonda i destini delle tre città. Ergo il sindaco si aspetta che ci sia qualcuno che dimostri responsabilità dando il tempo giusto per fare le cose per bene. Noi forti di un convincimento relativamente al tempo, quale fattore preziosissimo, abbiamo assolutamente, ci siamo dati questa possibilità e non solo, ecco questo è un inizio mi auguro perché poi chi è deputato a poter modificare ancora di più le cose mi auguro consideri i tre anni, insomma i due anni e mezzo di pandemia e tutto quello e le difficoltà che ci sono state e ci dia il tempo necessario che io da tempo rimarco essere fondamentale affinché si faccia il bene per il territorio e non si arrechi danno invece al territorio. Chi è contro questo processo di fusione in sostanza dice di ripetere quel referendum fatto otto anni fa? Questo perché magari le condizioni sono cambiate e forse anche perché è stato poco approfondito l'argomento? Questa è una domanda a cui rispondo con difficoltà perché io sono stato uno dei primi e per tanto tempo sono stato sostenitore di questa teoria, una teoria che vede il referendum, un voto abbastanza distratto da altre tornate, da altre votazioni che c'erano in concomitanza ma soprattutto che è stato dato in assenza di spiegazioni relativamente a quello che si andava a votare. Tanti cittadini hanno votato sulla scorta di un periodo di antipolitica che voleva i tagli dei costi della politica, di movimenti che parlavano di soldi a pioggia sul territorio. Ebbene in realtà ne uno ne l'altro in qualche modo sono soggetti in realtà premianti da questo punto di vista e quindi effettivamente capisco anche chi oggi vorrebbe un nuovo referendum o ancora come dicevo prima manifesta scetticismo perché del resto io girando in lungo e in largo il territorio accolgo tante richieste dei cittadini ma tra queste ogni giorno non ne trovo una che mi dice quando si fa la nuova Pescara o anzi trovo più chi è contrario a questo processo che altro. Quindi ripeto ci sta tutta.